Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo trailer action perché oh mio Dio è cito il trailer di Guardiani della Galassia volume 2 mi sto permettendo a piangere, bande convenevoli partiamo subito a vederlo perché ho l'hype esagerato e mi stanno venendo le palpitazioni Via Ma è già bellissimo Space Sweet for Emergence Oh forf Chaka, Uga Chaka Gamora Grande Star-Lord Quest'estate, l'abbiamo la data? La galassia Non si salverà, non si salverà da sola Quest'è Drax che parla sicuro Non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora ragazzi Non vedo se c'è ancora qualcos'altro Oh sì Oh Baby Groot Clamoroso, incredibile, bellissimo Mi sto permettendo, oddio ragazzi Voi non avete idea di quanto aspetti questo film Non avete idea Madonna mia Grazie Marvel per avermi rallegrato la giornata con questo trailer Oh mio Dio ragazzi è bellissimo Fatemi sapere cosa pensate a voi con un commentino qui sotto Lasciate un piace al video come al solito Condividete su Facebook, YouTube e su YouPorn E noi ci vediamo al prossimo video perché oh mio Dio Devo rivederlo altre 800 volte da qui fino a morire Cioè morire magari no perché voglio io vedere il film al cinema Però oh mio Dio Oh mio Dio